Salve a tutti, sono Silvia di Ufficine Culturali e oggi realizzeremo un piccolo scavo archeologico fatto in casa che vi permetterà di poter giocare un po' e divertirvi insieme ai vostri bambini. Il nostro scavo archeologico si comporrà con del materiale facilmente reperibile in casa, cioè un bicchiere di farina, farina bianca, mezzo bicchiere di cacao e due cucchiai circa di olio di semi. Posizioneremo tutto all'interno di una terrina che sarà proprio la nostra base per lo scavo. Cominciamo con la farina, cacao per dare appunto il colore simile alla terra e un po' di olio per la consistenza. Cominciamo a mescolare, cominciamo a impastare il tutto. Impastiamo fino a quando tutto non sarà più o meno di un colore uniforme e di una consistenza quanto più simile possibile alla terra. Ovviamente anche la preparazione dello scavo potete farla insieme ai vostri bambini. Quando il terreno sarà più o meno uniforme, più o meno in questo modo, magari voi potete anche lavorarlo un po' di più, si possono posizionare all'interno degli oggetti. ad esempio io ho preso un orecchino e nasconderlo sotto la terra, una monetina e nasconderlo sotto la nostra terra e un braccialetto, anche questo nascosto sotto la terra. Ebbene i vostri bambini con l'ausilio di forchettine o cucchiaini potranno cominciare a fare lo scavo e portare a luce questi piccoli reperti.